Sono a Piazza Biatipaoli, sono qui perché da diverso tempo ho presentato una mozione, è una nota abbastanza importante e urgente per quanto riguarda la mancanza della segnaletica stradale in centro storico. Se notiamo, venendo anche da questa strada per inserirsi in via iudica da Piazza Biatipaoli, chi viene da sedie volanti, ma anche il cartello. Questo è il primo esempio di tante strade, anche qui limitrofe, che manca la segnaletica. Chi è del territorio sa come muoversi, ma chi viene ovviamente da fuori è un gravissimo problema e qui nascono liti e diversi problemi anche a livello stradale. Ma non è soltanto qui il problema, ma anche in altre parti del centro storico, dove proprio la segnaletica è mancante. Siamo in vicolo del secco e anche qui manca la segnaletica stradale. Chi arriva in questo punto non sa come deve procedere, se questa strada ha doppio senso, se ha senso unico. Ci troviamo in cortile del secco e in circoscrizione, oltre a mancare la segnaletica stradale, mancano le targhe viarie. Questa targa è stata fatta dai residenti. Nell'arco di questi anni ho chiesto d'ufficio come si poteva fare per risolvere il problema delle targhe viarie, però purtroppo mi hanno sempre risposto che non ci sono i fondi e avremmo dovuto sostenere noi come consiglieri questa spesa. Grazie. 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 Grazie.